Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati sulla Stone Valley Farming Simulator 22 Allora siamo a giugno e sto iniziando, cioè sto iniziando, sto bello avanzato già per quanto riguarda la raccolta dell'orzo Orzo che sto portando poi al murino che diventerà farinetta perché ci serve più farinetta ragazzi Farinetta farinetta perché abbiamo iniziato tante produzioni quindi la farina è qua un consumo doppio Allora oggi dobbiamo fare una cosa, purtroppo le paperette, le ochette come cacchio si chiamano, le anatre, insomma gli uccellini, le anatre, le oche Producono pochissime uova, io quindi devo assolutamente fare un'altra zona, un'altra zona per far le uova Perché quella, io credo che la colpa sia della stalla, probabilmente ho messo giù una stalla o un recinto che produce poche uova Ma non mi bastano ragazzi, cioè la produzione di panchecchia praticamente è ferma Quindi quello che devo fare oggi è mettere giù una super mega stalla di polli che adesso andremo a cercare insieme su Modal Potevo cercarla tranquillamente da solo offline e aprire la partita già con la mod inserita Ma non mi piace così, mi piace di più che andiamo insieme, scegliamo, vi faccio vedere le varie opzioni eccetera eccetera È più carino, è più carino Però appunto vi volevo far vedere anche la trebbiatura dell'orzo Un po' di questo orzo poi lo butteremo anche all'interno del silos che ci faremo mangiare le galline Facciamo le galline e buonanotte, avevo fatto le ochette giusto per farvele vedere Però ragazzi qua ci servono le galline perché ste oghe, ste papere, ste anatroccoli, come gatti, le anatre, qualsiasi cosa siano Non producono niente, credo che però non sia legata agli animali Perché gli animali cambiano solo visivamente tra papere, anatre, oche e quello e quell'altro E penso che sia più un problema di stalla secondo me E quindi andremo a cambiare la stalla Questa la vendiamo, ci mettiamo ovviamente sempre nella zona industriale Magari vicino ai cavalli mettiamo anche una zona di produzione delle produzione uova insomma Allora, intanto io vorrei, vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi Tra l'altro le balle di paglia ci serviranno un po' qua e un po' anche dai cavalli Quindi ragazzi, tanto, tanto, tanto lavoro da fare E per non perdervi nulla io vi invito sempre in live tutte le mattine e tutte le sere qua sotto Piattaforma Viola in descrizione dove tra l'altro se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente C'è TikTok ragazzi, sono anche su TikTok adesso Quindi venite a seguirmi anche su TikTok Molti amici stanno mettendo il like Siamo già quasi arrivati a 80 follow, tipo così Dai arriviamo a 100 ragazzi, arriviamo a 100 Vediamo se entro, stasera ce la facciamo arrivare a 100 su TikTok E poi vi ricordo anche la mia, cioè, le altre mie piattaforme Instagram, Facebook, eccetera, eccetera Allora ragazzi, io direi qua che possiamo già mettere l'operaio Nella speranza che non faccia casino Perché, vabbè, non mi sembra che ci siano ostacoli particolari Quindi vorrei iniziare a fare un po' di robina Allora, cominciamo a sradicare giù tutto Ecco, come vedete, non è proprio aria qua di rimettere Allora, datemi un attimo Allora, dobbiamo Intanto mi era partito l'operaio Dobbiamo fare delle cosine La prima cosina è vendere sto fregnetto Che tanto non ci servirà Perché sto fregnetto noi ce l'avevamo solo per Per questa stallina qua Quindi vendiamo sto fregnetto Vendiamo Questo ce lo spostiamo tanto in completo Vendiamo ste 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 fregnette qua Perché, come vedete, non Non c'è verso di Fa nulla Ok Andiamo qui perché sì Perché se no non ci fa vendere cinto Cioè, è assurdo che 500 Anatre Facciano 300 litri di uova al giorno Cioè, è troppo poco ragazzi Non è una cosa normale E non è una cosa fattibile Ora, vendiamo Vendiamo tutto Qua ci rimarrà questo pezzettino Questo pezzettino Che adesso noi andiamo un attimino a Diciamo a Modellare A sistemare Perché vedete che è rimasto sto pezzettino qua È bruttino da vedere Qua ci mettiamo qualche altra cosa Ci mettiamo qualche altra cosa Mo' ve lo fa vedere Robertino Magari quello che ci mettiamo Prima però Ecco, riempiamolo un po' di erba Eccetera, eccetera Perché No È bruttino Eh Riempiamo un po' di erba Ok Ad esempio Qua che ci possiamo mettere? Ci possiamo mettere anche Un panne... Qualche pannelletto solare Che ci porta qualche uretto Vai Quanto 3.000 euro Pannelletto solare Vai Qualche pannelletto solare Perché così ci porta Ci porta un po' di soldini Dai Che male non fanno Eh raga Pannelletti solari Che ci portano Qualche soldino Che male non ce fanno Questo Questo poi Mi devo ricordare De portarlo Via Quando vado a consegnare le uova Lo metto qua così È probabile che lo vedo Se me lo metto in mezzo ai maroni A posto Poi Allora Adesso dobbiamo andare Dobbiamo andare Datemi un attimo Oh Già pieno questo C'è la misera Datemi un attimo E poi Meno male che ho tolto la mod Della resa delle colture Se no Era piena ogni 5 secondi Sta trebbia Datemi un attimo È incredibile Quanto Se tu zoomi da lontano L'audio dei mezzi Sparisca completamente Allora Eh Ok No Non devi far Allora È difficile Mi dispiace Offendere così Il povero operaio Ma è la verità Allora Fatemi svuotare un attimino La trebbia Ah Dobbiamo mettere anche una lancia Per pulire i mezzi In farm Perché manca Ho notato Una lancettina Per pulire i mezzi Per pulire i mezzi Vediamo questo oggetto Qua E andiamo È lenta eh È lentina eh So che nella realtà Sarà pure più lenta Ma Questa non è la realtà Via Allora Allora Andiamo dalle parti della stalla Eccola qua E adesso Volevo Volevo Volevi Allora Volevo 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 volare Volevo volare Ricordate quello che io volevo volare Allora 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 Ecco Questa è la strada Allora qui ci sono le serre Qua possiamo costruire la strada Qua ci facciamo una bella stradina Qua è tutta in terra Tutta in terrocchia eh Ce la facciamo tutta in terrocchia Cioè ci facciamo una bella stradina in terrocchia Che porta All'allevamento Dei polletti Tu dirai Perché stai Stai facendo così larga È per non andare proprio sopra il campo Quando poi si passa Ecco Qui possiamo fare Tutta la zona pollivola Ora però Dobbiamo trovare Io innanzitutto Spero che spiani bene qua Perché se no Mi tocca di usare La mod Quella dello spianamento Speriamo Male che va Facciamo alto F4 Usiamo la mod Dello spianamento Ora io qui Volevo fare Tutta la zona Pollivola Devo dire pollivola Pollesca Pollana Pollana La zona pollana Allora La zona pollana Allora Animali Galline Allora Qua c'è qualcosa Vabbè ma c'è C'è la roba della Allora La modda che avevo usato È questa Large outdoor chicken cop Ma evidentemente Cari ragazzi Ehm C'ha dei problemi Perché Non produce uova Quindi salvo E poi dobbiamo Rimettere l'operaio Ricordiamoci quando entriamo E andiamo a cercare Qualche Contenuto Scaricabile Allora Chicken Si scrive così chicken No non si scrive così chicken Scriviamoci No Aspetta Come cacchio Si scrive chicken Datemi un attimo Che vado su google A leggere come Oh raga Eh se ero bravo in inglese Non lo voglio dire Facevo il professore D'inglese Allora Allora Ehm Vediamo un po' Sì beh Allora chicken Chicken si scrive Chi Chi Can Allora Chi Chi Can Chicken Allora Chicken cop Ecco Questa già la prima Già è bella Ehm 1500 polli 1500 polli Ragazzi 1500 polli Già Ehm Addirittura fanno anche Letame Che ci potrebbe anche riservire Anche questa porca Ma questa è lunga raga Mi ci serve Mi ci serve un campo Solo per questa roba qua Troppo lunga Anche questa è troppo lunga Anche questa è troppo lunga Big chicken barn Questa 5000 addirittura 5000 addirittura Vabbè raga Una vale l'altra eh Una Una vale l'altra Ehm Big chicken barn Dai mettiamo Sti due Dai Chicken cop E big Chicken barn Perché ce ne sono Veramente tantissime Ma non è che possiamo Passare la puntata Adesso A vederle tutte Queste mi sembrano Quelle un pochino Più Fattibili E si adattano Anche bene Sulla mappa americana Quindi chicken cop E big chicken barn Allora Chicken cop Quindi alla c Allora c Chicken cop Allora Questa big chicken barn E chicken cop Chicken cop Chicken cop Eccole qua Vediamo un po' Vediamo un po' Cari ragazzi Se 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 per caso Cadesse il mondo Io mi sposto un po' Più là Sono un cuore Vagabondo Che di regole Non ne ha Allora Aspettiamo Quelle sette Otto rette Che si carichi La partita E vediamo un po' Se questa Ci È in cop Allora Rimettiamo l'operaio Tanto Allora Allora Salviamo Assolutamente Prima di far Qualsiasi cosa Salviamo E andiamo Di Costruzione Animali Galline Allora Big chicken barn 5000 E Costa 120.000 Chicken cop 85.000 1500 Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Che cosa si adatta Di più Allora Questa ci sta bene Ma anche questa Ci sta bene Questa ragazzi Secondo me Spiana tutto È da spianare Vedete che se magna Se magna Miscia Misericcia Sti cazzarola De cappi in pendenza Vi faccio vedere Che devo usare Alta F4 Volete vedere Che devo usare Alta F4 O vi fa vedere Albertino Eh Eh Lo vedi Guarda che merda Guarda che merda Taglio E allora Dobbiamo usare Sempre la nostra Feld Haufen Feld Haufen Allora Allora Sì però Noi qua Dobbiamo Si sovrappone A sta minella Sapida Si sovrappone Allora Dobbiamo Eh Qua è un macello Raga Perché qua Veramente Tutto Qua è tutto Vedete Dobbiamo Cerca di Spianare così Vedete Allora Facciamo così Spianiamo la strada Ecco vedete Qui c'è una leggera discesina Ci può stare Qua Spianiamo E cercamo De De Insomma Cerchiamo di Ecco Si sovrappone A sta minella Sapida Si sovrappone Cerchiamo di Spianare Un po' tutto Nella speranza Che non mi vada A toccare anche di là No No dai Non mi ha toccato Più di tanto Non mi ha toccato Più di tanto Vediamo se c'entra così Se c'entra così Io mi accontenterei Se c'entra così Io M'accontenterei Produzione Animali Animali Galline Ok 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 Se spiana Un pochetto Là dietro Non me ne frega Ecco Facciamo così Eppure meglio Se spiana Un pochetto Là dietro Ok 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 Eh insomma 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 Eh oh E leva sto coso Insomma Insomma Un po' stortino Allora Ne possiamo uscire Ne possiamo uscire Fidatevi Sfidatevi Si può Si può recuperare La cosa Allora Si può recuperare Si può recuperare Allora Basta prende Secondo me Basta prende Secondo me Quello più piccolino Il Dauphin Quello più piccolino No Questo è quello grosso Quello più piccolino Ecco Intanto Spianiamo lì Poi Così Questo Rivendiamo Poi Spianiamo qui Sì sì Ne possiamo Ne possiamo uscire Ragazzi Ne possiamo uscire Ne possiamo uscire No Piccolino Pianiamo qui Pianiamo qui Ne possiamo uscire Ne possiamo uscire Ne possiamo uscire Ne possiamo uscire Possiamo uscire Possiamo uscire Possiamo uscire Non usciamo Non usciamo raga Possiamo uscire Possiamo uscire A posto Ne siamo usciti Ne siamo usciti Sì ma ne siamo usciti di merda Allora amici A male estremi estremi rimedi Ho fatto di nuovo alta F4 Stavolta cambio tattica Stavolta vado Vado sul gioco pesante Vado sul gioco pesante E parto dalla strada E spiattello tutto qua Spiattello direttamente qua Dalla strada perché Insomma non è possibile Se no no Ok vedete Spiattellato tutto Spiattello così raga Spiattello così E beh e beh Perché se no ragazzi non E beh E beh E beh Facciamo così E beh Mi dispiace dirlo Allora abbiamo 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 Si dice Appareggiato Appareggiato la strada E adesso E adesso A male estremi E beh Ragazzi Il commento E beh Voglio leggere E beh E beh Allora E vabbè Sì vabbè Allora Vediamo un po' E sì perché qua Più entra interno Più è peggio Quindi conviene 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 amici miei Mi sta più su strada A me ne abbiamo Appareggiato Tutto Messi in pari Non so come si dice Da voi Ecco Stiamo a spendere i sordi Come se non ci fosse un domani Però è giusto eh È come se stiamo pagando Una ditta Un'azienda Per Per spianare Oh A posto Ecco A posto Facciamo così E mettiamo giù Sto benedetto Però mapper miei Mapper miei Mettete dentro Mettete dentro Una stramaledizione De zona Per costruire Cioè mettete le zone Piatte Sulle mappe Per poterci costruire Oh A posto A posto Decorazioni Muro Un bel murigno Anzi qua faccio Tutta la siepe Tutta la siepe Faccio raga Potrebbe essere bella La zona di siepe eh Eh che dite Una zona di siepe Dove Le nostre gallinelle Possono Crescere E moltiplicarsi Felici Chi è Guardate che robitta Guardate che robitta Che paolo bitta Allora Adesso sistemiamo Un po' eh Sistemiamo un po' Di verde Curiamo il verde Curiamo il verdone Vedete che stiamo Curando il verdone Ecco Curiamo il verdone Qui ci mettiamo il verdone Anche qui ragazzi Verdone Che poi qua Qua ci facciamo Ovviamente Nascondiamo le magagne Ormai Sappiamo benissimo Come si fa Qui ci metteremo tutta L'erbona E cespuglioni Erbona E cespuglioni Erbona Erbona E cespuglioni Cespuglioni Erbona Erbona Cespuglioni Cespuglioni Erbona a posto e voilà e anche la zona gallinelle è bella che è fatta dovremmo chiedere un prestito secondo me sapete? c'eravamo un milione di euro inizio puntata e vabbè raga investimenti voi dovete pensare che andiamo a simulare il fatto di pagare gli operai che fanno sti lavori non è che uno spiana una zona così per codulire si spiana la zona si spendono gli sordi allora ok a posto a posto ora ora ho detto sistemiamo i confini che insomma l'erba sull'asfalto è brutta ecco andatevi un attimo che vedete mi sto concentrando qui ovviamente tutto cemento sto concentrando come se non ci fossero domani e a posto l'ho fatta grossa appositamente alla fine così ci possiamo mettere anche qualche altra cosa qui non è detto che debba necessariamente essere solo una zona polli ci possiamo mettere qualsiasi altra cosa poi poi decorazioni decorazioni ci mettiamo i camioncini i soliti camioncini che sono insomma pronti per caricare i polletti i vari camioncini questa simuliamo insomma che sia tutta una zona industriale sta sempre bene sta roba qua qui ragazzi ci metteremo qualche altra cosa tanto non è che glielo mandiamo a dire insomma allora allora dai perfetto perfetto come zona oddio non è che ho messo tanta roba come decorazioni ci basta ci basta comunque poco ecco fatto ora quello che ci interessa a noi è la funzione di tutto questo questo un'altra volta già finito così gli portiamo proprio questo io lo portiamo fresco fresco il il mais l'orzo scusate gli portiamo l'orzo fresco intanto ce ne ho già un bel po' di litri ce ne ho tipo 70.000 litri nel silos adesso compriamo le gallinelle fanno scaricare l'operaggio l'operaggio deve scaricare l'operaggio deve scaricare l'operaggio nel frattempo che l'operaggio scaricare noi adesso andiamo a comprare polletti con questi pochi soldi che ci sono rimasti 200.000 euro ragazzi avevamo un milione di euro all'inizio mamma mia tra pannelli solari quello e quella però insomma mi auguro che alla mezzanotte ci arrivino un botto dei sordi fra cotone cotonelli produzioni pannelli solari quello e quell'altro mi auguro che alla mezzanotte almeno a 600.000 euro ci ritorniamo insomma svuotato tutto ok svuotato tutto mazza le pesa oh pesantissimo e c'è un altro campo ancora eh c'è un altro campo ancora allora torniamo là vediamo se ce la faccio a tornare dalla mappa eh da qua ce la dovrei fare eccolo ok perfetto beh dai non è male come zona un po' svuota un po' vuota ma troveremo il modo di riempirla insomma allora del resto è una zona industriale americana non è che allora raga mi servono le galline e tante galline tante no che faccio le rivendo che famo l'affari di Maria Cazzetta tante galline raga tante galline raga tante galline tante galline poi le lasceremo anche moltiplicare un po' non è che le compriamo tutte 5.000 qui adesso mi tornava utile la mod quella per acquistare 2.000 animali tutti insieme vabbè ci fermiamo ci fermiamo a 2.000 adesso il resto compriamo anche un po' di polli eh se no compramo solo le galline vai polli e galline ok a posto dai a posto per il momento stanno a posto così entriamo oh guardate che roba guardate che roba vediamo un po' se c'è qualche funzione strana ah si questo è per pulire la stalla quando si pulisce la stalla questi si tirano giù è il cibo praticamente ci sta ci sta dai un mega impianto un mega impianto gallinaro ora ci serve per nutrirlo ovviamente cereali a posto sperando che sperando ragazzi che finalmente che finalmente ci inizi la produzione di uova ora io finisco di riempire il camion perché non è che se vanno là vuoti riempio tutto e vediamo un pochino come va io ringrazio tutti voi di aver seguito il video vi invito sempre a lasciare un bel echino fatemi sapere se questa nuova zona vi piace questa zona ovicola super immensa vi aspetto sempre in live ovviamente per non perdere nulla grazie di essere arrivati fico e ci vediamo al prossimo video ciao ciao